Ieri sera il Milan ha battuto 3 a 1 il Fosinone a San Siro con le reti di Jovic, Pulisic e Tomori. Queste sono le nostre pagelle che trovate sul sito acmianinside.com dove trovate tutto quello che riguarda il mondo rosso nero H24. Allora, Maignan 7+, determinante, in uscita salva il risultato al minuto 41 su Kuni e al minuto 49 si inventa un assist per il 2 a 0 di Pulisic. Calabria 6, partita sufficiente del capitano del Milan, si propone meno rispetto alle altre gare ma è quasi sempre attento. Tomori 6+, il gol gli alza il vuoto, una sua leggerezza poteva portare il Milan in svantaggio ma poi si riprende alla grande realizzando anche il gol del transiero. Teornandes 7,5, gioca da difensore centrale ed è devastante, chiude tutto e tutti, si sganza spesso ed è sempre pericolosissimo anche offensivamente, era ovunque. Prestazione di livello assoluto per il difensore francese. Florenzi 6, buona prestazione, si propone e intelligentemente quando Teo va lui si scambia la posizione e rimanda nel reparto con Tomori. Musa 6,5, questo ragazzo difficilmente sbaglia atteggiamento, si impegna sempre tanto, molto d'utile. Inizia la gara sul centro-sinistra per poi finire esterno-destro al posto di Chukueze. Reinders 6,5, da mezz'ala offensiva di sinistra si note di più, di dietro sa sempre cosa fare in fase di impostazione, gestisce sempre con cura ogni pallone ma forse manca a vederlo offensivamente. Con il rientro di Benasser il Milan avrà un centrocampo di livello. Love to Cheek 6,5, fisicamente crea imbarazzo agli avversari, non lo sposti mai, vince ogni duello. Sta ritrovando la migliore condizione ma il centrocampista inglese per questo Milan è fondamentale perché ha caratteristiche uniche. Chukueze 6,5, mezzo passo indietro rispetto alla parte dei Champions ma è un giocatore vivo. Sta uscendo fuori, sbaglia molti dribbling anche perché veniva sesticamente raddoppiato e anche triplicato. Gran tiro a volo nel primo tempo e la palla per il gol di Jovic è sua. Pulisic 7, lo stop nel gol dovrebbe essere visto e rivisto nelle scuole calcio. Grandissimo il gol e grandissima la prestazione importante per l'americano. Capitan America ha corsa, tecnica, vivacità e idee. Jovic 7,5, al tifoso del Milan non piace molto ma lui col lavoro vuole smentire tutti. Dal punto di vista apertamente tecnico è un giocatore di livello assoluto. Forse la struttura fisica ancora non è adatta per performare al meglio e gli manca ancora un po' di coraggio. Le sue qualità spalle alla porta sono fenomenali ma il piano di gioco non lo coinvolge mai per le sue caratteristiche. Nelle ultime tre gare è stato presente e anche determinante. Con la Fiorentina con l'assist per il rigore di Ternandez. Contro il Dortmund prende un palo e impensierisce Coble con una mezza attraversata e un tiro di destro. O ieri sera contro il Fosinone gol al volo, assist e palla meravigliosa per Musa. Ad lì, sei. Il calciatore francese entrato nella ripresa perde qualche palla. Altri le gestisce bene come quando manda Camarda verso la porta. Queste sono le nostre pagelle che trovate sul sito acmianinside.com dove, vi ripeto, oltre a queste pagelle trovate anche tutti gli articoli per quanto riguarda il mondo rossonero. Non solo sulla prima squadra ma anche primavera è femminile. Quindi seguite il sito acmianinside e seguite tutti i nostri canali social da Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Grazie e sempre Forza Milan!